Perché è importante il mestiere del grafico, come si direbbe, nel mondo dell'editoria? Perché prima di tutto, ce ne accorgiamo qui al sone del libro, il libro è un oggetto, è prima di tutto qualcosa che sta su un tavolo, su una scrivania, su una libreria, e quindi qualcosa che tocchiamo e guardiamo. L'importante da capire quando si lavora a un libro, ma anche a una rivista, a un progetto editoriale, che è qualcosa che ha la possibilità e i limiti della stampa e dell'oggetto cartaceo. Bisogna rivalutare quello che si può fare con la carta, quindi tutte le possibilità, soprattutto nel mondo del libro, che è più di nicchia, che può essere più raffinato, un art director, un progettista grafico può disegnare l'oggetto libro, quindi tutta la sua forma, tutta la sua comunicazione.